Si chiama Storia della città ed è progettata come un itinerario interattivo ricco di testimonianze sullo sviluppo di Bassano dal punto di vista urbano e architettonico, analizzando la crescita demografica, industrie, arti e attività artigianali. È la nuova sezione dei musei civici, ideata da Giuliane Ericani e realizzata grazie ai finanziamenti di Regione Veneto e Confartigianato Vicenza. Contestualmente vedranno la luce i nuovi spazi di biglietteria e bookshop.